Tanta voglia per tutti ragazzi, prima di iniziare questo video, questo top 5, vi ricordo che oggi siamo a Mirabilandia, per il momento speciale, quindi se siete là vicino venite a trovarci a Mirabilandia. Eccoci qui ragazzi, come ogni domenica siamo qui con la vostra top 5 della settimana, vi ricordo che da quest'anno siete voi a votare su Facebook la classifica e questa settimana ragazzi non potete capire in prima posizione che cosa c'è. Ma andiamo per ordine e adesso andiamo a vedere la quinta posizione. Quinta posizione ragazzi per Johnny, 1999, ci porta su Black Ops 2, tira un C4 su Dominio e fa fuori 6 persone in contemporanea, va detto che era su Guerra Terrestre. Ave Andy ragazzi, gli Ave, i padroni di zombie ragazzi, fa Andy un escape, boh pazzesco, Fist Room, round 18, il suo compagno a terra ragazzi guardate come se ne va qui, secondo me meritava qualcosina di più però l'ho lasciata qui perché i like di quella dopo sono molto più alti. Infatti D.Cree ci porta su Minecraft ragazzi, prima clip di Minecraft che entra, con l'arco, un mezzo trick diciamo così, e fa fuori in headshot il suo avversario. Ancora Black Ops 2 ragazzi per la parte caldissima del podio, Skin VNM ci porta un trick shot veramente molto ben fatto ragazzi, visuale morte finale anche, trick e wall bang per lui, complimentoni, gran bel trick. Prima posizione ragazzi per Burli che svetta dal ponte, si lancia con la sua moto, si lancia poi dalla moto ragazzi e prende questo traliccio della luce e rimane lì bello sospeso a mezz'aria. Abbiamo visto qualcosa di simile anche sul canale ragazzi ma questa è veramente folle, ha raggiunto oltre i 2000 like su Facebook quindi complimentoni a Burli per questo stunt. Bene ragazzi il video finisce qui ragazzi, una caterba di like per la prima posizione perché è veramente qualcosa di folle. Una piccola nota ragazzi, dati i vostri consigli, avete detto che comunque le classifiche fatte solo dagli utenti sono non sempre troppo equilibrate e da questa classifica di oggi sto decidendo di modificare qualcosina anch'io. Quindi la classifica sarà sempre fatta solo ed esclusivamente da voi ma se io vedrò che c'è qualche video, diciamo qualche clip che meriterebbe qualche posizione più oppure che non andrebbe proprio messa nella clip per vari motivi, deciderò io e quindi prenderò questa piccola decisione. Fatemi sapere se per voi va bene e pensate che sia meglio per equilibrare maggiormente le clip. Da Ferrix è tutto e noi ci vediamo domenica prossima. Bella! Ciao!